Buongiorno a tutti, oggi farò un video sull'indicatore stocastico, questo perché alcuni di voi mi hanno chiesto come leggo lo stocastico che è presente nei miei altri video, perché in realtà non è un solo stocastico ma sono due sovrapposte. Ma prima di spiegarvi il mio metodo, devo spiegare a chi è nuovo naturalmente che cos'è l'indicatore stocastico e soprattutto vi devo spiegare il principio di base con il quale posso leggere il doppio stocastico. Allora, prima cosa, ecco qui vedete il mio sistema, cioè il doppio stocastico, ma se qualcuno di voi non sa o del nuovo non sa come inserirlo, facilmente si può andare su oscillatori, stocastico oscillator, trascinarlo sul grafico, settare il %K, il %D, il rallentamento, anche i colori naturalmente, se ne volete mettere più di uno dovete cambiare i colori per forza. Se il prezzo è chiusura sulla chiusura o sul massimo o il minimo, se lo volete semplice, esponenziale, smoothed, linear weighted, indifferente. Poi basta dare ok e avrete il vostro indicatore stocastico. Naturalmente potete anche settare i livelli, qui, quindi potete aggiungerli, mettere magari come classico un 80, aggiungiamo un altro, 20 e se volete anche la mediana 50, ecco, e otterrete i tre livelli. Anche qui se vi danno disturbo potrete cambiare i colori, metterli più scuri, più chiari, di un altro colore, indifferentemente. In automatico vi da anche la linea dello 0, solamente 3 del 5, sulla 4 credo di no. Comunque questo è l'indicatore stocastico, che è formato da due medie, l'abbiamo visto, la K e la D, quindi la K, quella verde, la D, quella rossa tratteggiata. Che in teoria ci indicano, o ci indicavano, perché è uno strumento, un oscillatore degli anni 80, cioè ideato in quel periodo, fatto proprio per indicare se il prezzo era in ipervenduto, quindi oltre la linea dell'80. Io in realtà uso l'85, mi tengo un po' di margine in più, oppure ipervenduto sotto il meno 20, per me meno 15. E in teoria, col metodo classico, dovreste, vedete, se in ipervenduto, in ipercomprato, al momento che incrocia, al momento che rientra sulla linea dell'85, in teoria voi dovreste aprire un trend short fino all'ipervenduto, eccolo qui. Ok? Depende dei vostri 4,4 punti, anzi i pips, sul forex. Dovreste andare avanti così, quindi in teoria sempre al mercato, per comprato, vendo, e per venduto compro, eccetera, eccetera. Naturalmente, nessuno si faccia illusione, ormai al giorno d'oggi, usare lo stocastico così è un buon modo per distruggere il vostro capitale. Quindi, abbandonate, mio consiglio, abbandonate naturalmente questo sistema. Poi, come sempre, questi non sono consigli finanziari e nessuno deve fare nulla guardando questo video, ma tutti quanti devono tradare e usare la propria testa. Comunque, questo è per spiegare il principio originale dello stocastico. Poi è vero, si può usare anche in una seconda maniace trovando le divergenze. Per esempio, una divergenza di, vediamo se la troviamo, di massimi, ne ho soltanto una piccolina, qui vediamo se la troviamo qualcuna migliore, o di minimi, neanche per l'opposta non ne troviamo nemmeno una in questo momento. Usiamo quella piccolina che ho visto prima. Allora, qui ce n'è una piccola, eccola qua, cioè lo stocastico scende, in realtà il prezzo, se riesco un attimo a prendere, eccola qui, il prezzo sulla, eccola qua, dovrebbe essere questo. Sì, esatto, vedete? Cioè qui sale e qui scende. Quindi in teoria c'è una divergenza, quindi appena incrocia a rialzo io dovrei andare lungo. Questo è un metodo migliore rispetto al primo. L'unica cosa è che le divergenze, avete visto, per trovarle, facciamo fatica, non ci sono tutti i giorni. Quindi, se volete utilizzare in questa maniera, documentatevi sul sistema delle divergenze. Ma passiamo al mio metodo. Allora, eliminiamo. Prima di tutto vi devo far vedere il principio sul quale si basa. Io spiego di solito ai miei studenti. Faccio, racconto una metafora. Faccio finta che questo stocastico veloce sia il suono prodotto dalla chitarra elettrica di un gruppo rock. Quindi, acuto se volete. Magari immaginate suonato sulle corde più sottili, sulle note acute. E invece quello lento potrebbe assomigliare al basso elettrico. Cioè, di alcune ottave più basso rispetto alla chitarra. Quindi qua abbiamo la nostra chitarra e il nostro basso, vedete? Perché considero il prezzo come se fosse un'onda sonora, un'onda meccanica. Quindi anche lo stocastico, chiaramente, è calcolato sul prezzo. È come se ci fosse un'interferenza, andiamo a vedere, ecco qui, di onde. Per coloro che hanno fatto, o si ricordano, fisica alle superiori, questa cosa ovviamente è semplice. Ma per chi non lo sa, lo rispiego velocemente. Quando due onde, in questo caso sono pure sinusidali, si sommano, cioè quando le creste, o le valli, se volete, sono in fase, abbiamo un'interferenza costruttiva. Vedete? Quindi il segnale, in questo caso, aumenta. La frequenza no, ma quello che è in musica sarebbe il volume. Per la nostra chitarra sarebbe aumentare il volume, come se suonassimo con due chitarre la stessa nota. Ancora meglio, nelle orchestre classiche, un violino ha questo volume, due violini aumentano del doppio il volume se suonano la stessa nota. Ecco perché le orchestre sono composte da tanti violini, tanti flauti, per ottenere più volume. Se invece siamo in controfase, quindi in interferenza distruttiva, cioè la cresta è in fase con la valle, e quindi anche viceversa, quindi cresta è in fase con l'altra valle, avremo l'annullamento delle due onde, quindi silenzio, in realtà. Ci sono due casi estremi, ovviamente, che sul grafico li troveremo raramente, anche se nel caso di interferenza distruttiva ci può essere. Possiamo trovare, per esempio, fasi come questa qua. Eccola qua. Noi non vediamo le onde portanti, perché si chiamano così le portanti, vediamo solo la risultante. Probabilmente qui c'è un'onda immaginaria, così, e l'altra che è esattamente, o quasi, perché non è proprio perfettamente piatto, opposta. E questo vi fa apparire sul grafico la bassa volatilità. Ecco qui. E infatti è anche su questo principio che baso la lettura ciclica che ho riportato nei miei altri video. Se volete andare a rivederli, ovviamente sono sul mio blog, quindi qua, ideeditradingblog.blogspot.com che avete, per esempio, riassunto della strategia di trading, perché in tanti me l'hanno chiesto un video breve con tutte le regole di base, infatti in circa 16 minuti, o se no, qui parlo anche dei cicli aritmici, la campana gaussiana nel trading, semplificato, quindi come spiegare questa teoria delle onde, anche in base alla teoria di Gauss. E poi avete molte altre pratiche, molti altri video che possono essere utili, insomma. E poi quello base, eccolo qui, anche qui come utilizzo gli allo stocastico. e ho fatto anche alcuni post iniziali per vedere come utilizzare il pattern, perché mi baso molto anche sulla forma. Infatti il mio metodo ciclico semplificato si basa sulla lettura della forma, quindi del pattern M, sia sullo stocastico che con la media triangolare, e ovviamente anche con la projection, ma combinato, tengo sempre a mente che queste sono comunque onde, come la chitarra e il basso. Quindi queste due letture messe insieme mi danno una lettura ciclica semplificata. In questo modo posso anche non considerare il tempo, anche se le scatole temporali, come ho già detto, esistono. Magari sarà argomento di discussione in un prossimo video. Comunque passiamo al mio metodo. Prendiamo un esempio, qualsiasi, indifferente, questo qui è chiaro, potrebbe essere più semplice da spiegare. Allora, praticamente, non è importante che settaggio mettete voi, o che ci sia sullo stocastico. potete settarlo un po' come volete. L'importante è che quello veloce e quello lento siano in rapporto intero tra di loro. Potrebbero essere uno a due, cioè, questo, se il lento è uno, divido per due, ottengo lo stocastico veloce. Oppure a tre. Quindi, quello veloce è tre volte più piccolo. Anche a quattro va bene. Oltre il quattro, io non mi trovo benissimo, ma naturalmente voi siete liberi di fare qualsiasi tipo di prova, di settaggio, è molto personale. Quindi, ognuno deve provare il suo settaggio come più gli piace. In questo caso, per l'esempio di oggi, l'ho diviso in due. Quindi, lo stocastico lento, no, scusate, lo stocastico veloce e due volte quello dello stocastico lento. Allora, qui, semplicemente, io vado a trovare i punti in cui sono in fase, in cui la chitarra, la metafora di prima e il basso, suonano insieme in armonia e quindi creano buona musica. La buona musica ce l'abbiamo, per esempio, quando, ecco, qua abbiamo un incrocio dello stocastico lento e lo stocastico veloce è già in una buona fase con quello lento. Vedete che ha la stessa direzione, cioè, entrambi vanno verso l'alto e anche in maniera pulita in questo caso. Quindi, per esempio, qui alla chiusura, quindi se qua c'è l'incrocio, questa candela mi incrocia. Io attendo perché devo essere sicuro. Questo è molto importante. Dovete attendere la chiusura della candela perché dovete essere sicuri che l'incrocio si sia formato. Questo magari lo vediamo tra un istante mentre andiamo a pregiare un tempo reale. Quindi, questo chiude. All'apertura della prossima candela ho tutto in fase e come vedete qui si può tentare di aprire un trend long. Tra l'altro è sopra la media triangolare molto vicino alla media a nove periodi. Quella candela dopo mi dà conferma quindi sì, probabilmente qui è partita la prima gamba, quindi gamba 1 fino a qui, poi gamba 2, gamba 3, gamba 4. Ecco qua e siamo in fase. Se invece fossimo per esempio, per esempio, vediamo una controfase. Allora, se fossi qui, ecco, andiamo qui. Qui si parte tutto quanto il nostro stocastico veloce parte in alto, quello lento è un po' in ritardo, quindi quando mi trovo qui, come vedete, incrocia, aspetto la candela dopo, però c'è un però. In questo momento abbiamo lo stocastico veloce che non è più in armonia, cioè lui sta scendendo mentre il ciclo più grande sta salendo. Quindi qui in realtà me ne sto fermo e infatti candela ribassista. dovrei attendere che lo stocastico veloce si rimetta in fase, quindi qui incrocia, questa candela qui, aspettiamo la conferma dell'incrocio, eccolo qua, con questa candela ci rimettiamo in fase, quindi siamo di nuovo in fase. Naturalmente è importante sapere anche se siamo sulla fascia alta e sulla fascia bassa. In questo caso so che dovrei fare un'entrata veloce perché potrebbe essere che come effettivamente ha fatto faccia delle oscillazioni che rimbalza. Si può anche considerare così nel senso comunque in questo punto qua che sarebbe il nostro innesco, eccolo qua, questa candela innesca dopo che questa ci ha dato conferma, eccolo qua, così, sappiamo che abbiamo quello basso, scusate, lo stocastico lento nelle zone basse, quindi potrei anche considerare di tenerlo finché questo non faccia il giro. Se invece siete più conservatrici, più conservatrici o conservatori, naturalmente, dipende se siete uomini o donne, potrei anche chiuderlo semplicemente qui, magari praticamente a pari, aspettare di nuovo il ritorno in fase e in questa fase zac, eccolo qua. Tutto quanto mi prendo la mia gamba 1, anzi, forse questa è un'aritmia, non importa, le miei 40 pips, ecco. Io lo utilizzo in questa maniera, cioè aspetto sempre che sia uno e l'altro, sia il veloce che il lento, siano in fase, ok? In tutti i punti, indifferentemente. Qui scende, per esempio, aspetterò, beh, questa è buona, no, in realtà non ci dà ancora conferma, quindi, qui, in realtà, no, devo aspettare che confermi quello lento, qui sono in controfase, quindi attendo, mi dà conferma di questo incrocio, eccolo qua, quindi con questa candela qui, all'apertura di questa candela, vado ad aprire il mio shout, fino, questo è molto personale, come sempre, fin dove vi sentite, naturalmente, o se no, al limite, tenete fino a quando non siete in ipervenduto, o più o meno in queste zone, quindi si potrebbe chiudere anche qui. affinché non tocca la media, non ritorna sulla media triangolare, 21 pips, in questa maniera, ecco. Questo è tutto, io leggo lo stoccasio in questa maniera, cioè, attendo sempre che le due onde, quella veloce e quella lenta, siano in armonia, poi leggo le gambe, tengo in considerazione le medie triangolare e la media a nove periodi, come visto precedentemente nei video scorsi, quindi datevele a rivedere, e vado a posizionare le mie operazioni in base a queste due letture. Bene, grazie a tutti quanti per la partecipazione e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.